Musica Oramai ci siamo, la tangenziale di Morbegno è quasi ultimata. Nei fra due settimane si potrà sapere quando avverrà il tanto atteso taglio del nastro, rinviato per ben tre volte. Prima sarà dato dicembre, poi maggio e infine giugno. Nella serata di ieri, l'assessore regionale alla montagna Massimo Sertori ha annunciato che entro la metà di settembre, precisamente il 18, quando sarà convocato il prossimo collegio di vigilanza, verrà stabilita la data di apertura della strada a scorrimento veloce, che consente di bypassare il centro della città del Bitto, periodo più probabile metà novembre. Non solo, il Pirellone ha deciso di stanziare nuove risorse, 1.700.000 euro, affinché possano essere emessi a punto tutti gli interventi collaterali alla realizzazione dell'opera. Nel frattempo i lavori procedono a pieno ritmo. Solo pochi giorni fa è stata aperta la nuova bretella sullo svincolo del tartano, da sempre punto ostico della circolazione, soprattutto per chi si mette sulla statale proveniendo dalla provinciale. La visibilità è molto scarsa, senza contare che nei periodi di esodo e controesodo si forma un imbuto che paralizza completamente la circolazione. A breve, lo assicura il consulente tecnico della comune di Morvegno, Francesco Bongio, che segue da vicino il cantiere, sarà aperta anche la corsia di accelerazione. Allo stato attuale, i lavori sono ultimati per il 95%. All'appello, mancano il completamento della pavimentazione. L'asfalto è stato distribuito sul 35% del percorso di poco superiore ai 9 km e la segnaletica orizzontale. Hanno invece fatto caponino i primi cartelli stradari, che indicano l'accesso alla nuova tangenziale. Ancora nessuno sblocco sull'emergenza dei fanghi reflui. L'unica soluzione per evitare che il sistema di depurazione rischi il collasso è un decreto ministeriale. Questo quanto è emerso nel pomeriggio di ieri dall'assessorato all'ambiente di Regione Lombardia, che ha incontrato i rappresentanti degli impianti di repurazione e gli operatori impegnati nel trattamento del materiale di scarto. Per cercare di trovare una soluzione che possa risolvere l'impasse creatosi in seguito alla sentenza emanata dal Tribunale regionale e amministrativo lo scorso 20 luglio. Il giudice, dando ragione al ricorso presentato da 65 sindaci del Pavese dell'Odigiano, preoccupati per le sostanze tossiche presenti nei liquami ed utilizzo agricolo, aveva fissato a 5 grammi il nuovo valore di soglia degli idrocarburi per chilo di fanghi ad uso agricolo, contro i 10 massimi consentiti dalla delibera regionale del 2017. Una sentenza che di fatto ha paralizzato il sistema di depurazione Lombardo. L'unica soluzione spiega all'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo è l'emanazione immediata di un decreto ministeriale. Un testo spiega che pronto è già condiviso a inizio agosto in sede di conferenza Stato-Regioni. Nei prossimi giorni verrà realizzata una mappa condivisa con le quantità di fanghi da smaltire nelle prossime settimane e le soluzioni possibili per affrontare l'emergenza attraverso stoccagi ed altre modalità di trattamento straordinarie. Misura e tampone che non consentirebbero di andare oltre la metà di novembre. Nei giorni scorsi presso il centro integrato di corte Orona di A2A sono state conferite le prime 650 tonnellate di materiali di scarto alcune delle quali provenienti anche dalla Società per l'Ecologia e l'Ambiente di Sondrio che definisce la situazione attuale decisamente allarmante. Secondo l'amministratore delegato Gildo De Gianni l'unica soluzione sarebbe l'intervento del Consiglio di Stato. Noi ci aspettiamo che venga risolta questa questione perché sta determinando a carico della società costi molto elevati se dovesse proseguire su base annua avremmo maggiori costi sull'anno scorso di oltre un milione di euro per lo smaltimento dei fanghi. Inoltre, non oltre novembre, verrebbero esaurite le disponibilità anche degli impianti che attualmente pochi in verità ricevono ancora i fanghi. Abbattere l'utilizzo delle sostanze pesanti nella viticoltura per raggiungere una qualità del prodotto il più naturale possibile. Questo è l'obiettivo del primo incontro del ciclo Porte Aperte che annualmente alla Fondazione Foglianini organizza a favore degli agricoltori che hanno a cuore lo sviluppo sostenibile della cultura locale. Martedì è l'appuntamento inaugurale dedicato al settore vitivinicolo. Tema della giornata, il contenimento della plasmospora viticola l'incubo di numerosi viticoltori. Il noto fungo che attecchisce sui pampini della vita può compromettere gran parte dello sviluppo dei grappoli. Grazie. Dalla vita ai frutteti con il secondo appuntamento è un programma martedì prossimo. Tappa conclusiva il 19 settembre con una mattinata dedicata interamente all'enologia. Il Comune di Sondrio conferma la propria attenzione al mondo della danza sposando per il secondo anno consecutivo la proposta dell'Associazione Culturale Performing Danza diretta da Stefania Curtoni. Risultato, il via libera al calendario delle manifestazioni di livello internazionale Sondrio Danza 2018-2019 che l'Associazione Culturale Valterinese ha allestito in stretta collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Sondrio in capo a Marcella Fratta. Manifestazioni che si apriranno il prossimo 12 ottobre alle ore 21 al Teatro Sociale di Sondrio col gara internazionale della danza per proseguire con altri tre appuntamenti di spessore in calendario il 26 gennaio del prossimo anno e a seguire il 2 marzo e il 13 aprile. Con una novità assoluta la presentata dall'appuntamento pomeridiano di gennaio del 18 di teatro e danza per bambini che va sotto il nome di Brutto Natrocolo. Sono quattro appuntamenti molto interessanti ispirati anche alla letteratura abbiamo la storia di Coppelia che sicuramente interesserà grandi e bambini e soprattutto abbiamo uno spettacolo come quello del Brutto Natrocolo dedicato ai bambini che permetterà di far avvicinare al teatro anche le nuove generazioni abbiamo cercato di creare una stagione che andasse in continuità con quello che è anche stato l'esperienza dello scorso anno quindi avremo delle conferme che sono il gala internazionale della danza il 12 di ottobre una nuova produzione della compagnia Performing Dance il 2 marzo dal titolo Coppelia e la chiusura il 13 di aprile con la compagnia di Virgilio Sieni con lo spettacolo Back Dance Suite che vedrà in scena quattro danzatori e un violoncellista dal vivo per cui anche qui una fusione tra quello che è l'esperienza musicale e l'esperienza danzata Ad esibirsi sul palco da sociale di Sondrio saranno quindi ballerini e ballerine di altissima formazione provenienti da tutta Europa tra cui nomi di particolare spicco come quelli di Paola Giovenzana Edoardo Caporaletti ed Emanuele Ataglia-Mia al pari di coreografi e artisti del calibro di Simona Vucci Roberto Lori e Virgilio Sieni Protagonista sarà quindi la danza classica ma anche quella contemporanea le atmosfere fantastiche di Coppelia portata in scena dalla compagnia Performing Dance e la ricerca del movimento puro assicurata dalla compagnia di Virgilio Sieni In vendita presso l'ufficio relazioni con il pubblico del comune di Sondrio la bilettiria del teatro sociale in questo caso due ore prima dello spettacolo e online sul sito del teatro sociale o sul sito di Viva Ticket i biglietti per il singolo spettacolo disponibili anche nei punti vendita di Viva Ticket di Sondrio, Morbegno e Tirano Quasi 30 anni sotto rete Il Volley Open torneo internazionale giovanile e femminile di pallavolo che quest'anno ha raggiunto il prestigioso traguardo di 29 edizioni il prossimo fine settimana accoglieranno il cuore di Sondrio le migliori promesse della pallavolo Piazza Garibaldi sarà dunque palestra a cielo aperto in cui si sfideranno a sondi schiacciate otto squadre una delle quali provenienti persino dalla Croazia l'elisir di lunga vita della manifestazione organizzata dalla PGS Octinium è proprio un incontro attraverso lo sport di giovani provenienti da realtà oltre confine Siamo davvero contenti di poterci riproporre a Sondrio ormai il Volley Open è diventato un appuntamento fisso l'anno prossimo il trentennale ci piacerebbe davvero farlo diventare un piccolo campionato europeo giovanile e la grande disponibilità che stiamo riscontrando in più ambiti per noi sono davvero un grosso stimolo Sabato sera la squadra che rappresenterà il progetto V36 Plus Crai sfiderà il GS Caldiero che è neopromosso in Serie C mentre ricordo che il B36 Crai è quest'anno partecipato nazionale di B2 si affronteranno in amichevole al Palasceghi perciò per tutti i protagonisti del Volley Open ma per l'intera città la possibilità di vedere una partita di seppur amichevole di grande livello le iniziative sono tante però il motivo comune è sicuramente la pallavolo quella giocata per le ragazze più grandi ma anche la promozione della nostra proposta sportiva per tutte le bambine quest'anno partiamo terza, quarta 3, 4, 5 anni scuola dell'infanzia con Pallandia e poi l'attività di minivolli S3 la proporremo in piazza Garibaldi sabato mattina dalle 10 alle 12 perciò per chi vuole avvicinarsi alla pallavolo grazie alla professionalità all'impegno e all'eccellenza del nostro staff tecnico daremo davvero la possibilità di far conoscere la nostra disciplina anche più piccole ad inaugurare l'evento sportivo la consueta partita delle stelle che venerdì sera illuminerà il centro del capoluogo qui i volti noti della città si batteranno sotto rete anticipando le vere battaglie che prenderanno il via sabato alle 11.30 gran finale domenica con le sfide fra le migliori squadre under 14 e 16 presso la palestra a Palasceghi per te donna che cerchi nella moda uno stile davvero personale c'è New Probabile Donna la boutique di Sondrio in Diamazzini 15 dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti New Probabile Donna da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour un'eleganza decisamente sofisticata con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità New Probabile Donna abbigliamento borse accessori e calzature a Sondrio in via Mazzini 15